Oh micchia sorella, ho visto una sorella, oh micchia sorella, oh micchia sorella, oh ma tienimi su sorella che è stata una giornata difficile, oh micchia, oh ciao, ciao, come stai? Bene, benissimo, viva la pace, eh sì, sempre comunque, ragazzi viva la pace, viva pace e amore, bello bello, come ti chiami? Laura, da dove vieni Laura? Grassobio, dov'è Grassobio? Bergamo, oh Bergamo molto bene, allora cosa vesteggi questa sera? Secondo te cosa vesteggi? Vedendovi vestite, la libertà pensavo, esatto, bravo, bravissimo Oh la libertà, come mai? Spiegaci, spiegaci Regia mi stai perdendo la sposa, non ti distrarre con le amiche, no no ti distrai con le amiche regia, vieni, vieni qui Lui cova, 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 lui cova Eh, cosa devo dirti? Dici, raccontaci, raccontaci Cosa ti racconto? Eh, cosa vesteggi? Perché la libertà? Perché? Perché, no, loro la libertà, io in realtà mi sposo Ah, vedi che adesso è più chiaro Quando e con chi? Dici un po'? A giugno, col Matteo Con Matteo, ti fa riso Ah no, ha riso per lei, ok? Bene, bene Vuoi dirgli qualcosa? Vuoi mandargli un messaggio? Ciao Matteo, no Ho delle amiche simpaticissime, guarda qua Io sento un po' di ironia in tutto questo Sì, certo, certo Va bene, bene, allora Le lasciamo andare a picchiarsi nel bagno Se fate sangue pulite, per favore Va bene, va bene Picchiatemi tra voi Bene, bene, allora Grazie, buona festa, buon divertimento Ci spiace che si rovinerà un'amicizia questa sera È vero Se ne possono ricostruire di nuove, giusto? Bene, come i papi, come i papi Grazie Se ne fanno altro Sì, sì Ok, le salutiamo per l'ultima volta Facciamole inquadrare, vieni, vieni anche tu in mezzo a noi Salutiamo tutti, ciao! Ciao!